Il mutaforma, oh caca Prima erano 104k sul si hanno perso, coincidenze? Io non credo Ok Ragazzi Perché poi si muoveva lo shop insieme a me? Non ho fatto niente C'è lo shop, scusate, le impostazioni Si muovevano Dove muovevo il crossore, è uno dei tanti Bug Ma se iniziassi i cal Serebbe ancora più soldi No, però l'omnivamp è troppo forte ragazzi Ok il cal, ok i soldi Ma l'omnivamp è troppo forte Non posso non iniziare di Doran's Blade Forse contro un altro matchup Contro un mage abbastanza passioche Ma contro Yasuo non posso strattare di Dell'item dei soldi, di cal Ecco se faccio un early back Tipo con 450 gold Allora a quel punto lì posso comprare anche un cal Il train d'app l'ho rifatto? Io l'ho rifatto il train d'app? Mi sa di no? No, no, non l'ho fatto con gli oggetti nuovi Perché A parte che non saprei cosa metterci sul nuovo train Effettivamente Poi me lo studio Ok Non lo so Fraietta Dom Non lo so Io ho soltanto Yasuo, Ion e Zed in Midland Non vedo nessun altro Ok, togliamogli lo scudo Adesso ben due minion Bel Dark Harvest Quanto mi piacerebbe E dai Yasuo E fammi prendere il Dark Harvest Yasuo Non me lo fa prendere, raga No, l'ho missato Dai, cazzo Erano i soldi precisi per il cal Mannaggia Eh niente Torno con le scarpe Allora Non posso aspettare in base Purtroppo Va bene Per questo pusha Ah beh C'ha il TP comunque Ok Non mi è piaciuto tanto Il suo back E poteva rimanere C'ha quello scudo fastidiosissimo Ogni tot Sì, Yasuo Sì Veramente, veramente passivo Sto Yasuo No Ma faccio davvero così pochi danni Cacchio Che è che non ho ancora oggetti Però Non sono concentrato Non riesco a farmare bene Purtroppo Mi tilta il fatto che Yasuo Non stia facendo niente Ha 8 minion lui Alzo che i miei Ok Voliber aggancia Capito un cazzo Il flash l'ho usato Perché Yasuo È ancora il suo Quindi ho usato il mio subito Prima che flashasse lui E perdessi la kill Buono, buono Va bene Si inizia a muovere qualcosa Qua, raga Si inizia a muovere qualcosa Ma che cazzo Oh, ma Che due coglioni Amma mia Quanto odio Sto nuovo shop Non riesco ad abituarmi C'è ancora Dove iniziare Con la doppia spada Questi cazzi Yasuo Ah si Ah non c'ho proprio Ho bocellato io Scusate Vai iniziamo col collector Dai Kindredafk Vabbè E' che modo di vincere lo stesso Eh saranno lì sicuro Ma che gli dico Assolutamente nulla Non ho un jungler Quindi Ho ben poco da dire Gli signori Fate pure il drake In santa pace Che gli dice Niente Ma lo so che erano lì Però il concetto è Se tanto non ho un jungler Che faccio Uno v2 senza summoner Vado al suicidio Mamma mia Quanto è passivo Sto tizio E dai Yasuo Sei un disonore Per gli Yasuo main Sei un disonore Per gli Yasuo main Ecco Non riesco a farmare oggi Mi dispiace Places Allo Places Places Oppure non dodge Nulla che possiamo fare per questo jungle Back Concentrazione Kinder può tornare Io se continuo a fidarmi In realtà sono più che ok Se gli altri non intano Bot c'ha una kill Il nostro top è morto Quella pure è morta Oddio Ok Queste sono preme Vedete quanti Quanta roba fanno insieme Oh cazzo Devo prenderlo con Non ci ho pensato Allora che siano lì È chiaro questo Oh cazzo E io più di questo che faccio? Bella domanda Vai c'ho il Collector Morto l'ADC No raga mi dispiace ma non so quanto potrò fare qua C'è purtroppo Parliamoci chiaramente L'AFK è ok ma se Quella qui, vabbè sì ok per verità è stato risucchiato però Cominciare in pieno lì se stai perdendo Ah bella domanda E pensi farmi perdere il ca... C'è davanti non può sitarlo Dietro non può sitarlo Dove cazzo può sitarlo sto carretto qua Boh vabbè Feature interessante che dire Oh là puoi stare Stai facendo anche tutti gli obiettivi Urgot sta scendendo Cazzo Ok Palle sta gente Sorry Che ha fatto Miss Fortune ragazzi non ho visto Non ho visto che ha fatto Miss Fortune Mi sento... Sento come se avessi perso una perla Ulti a cazzo ok 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 Buono Una volta imbarazzante Ok ok ragazzi non l'avevo visto Non l'ho visto Non l'ho visto Può clippare Cioè clippate così io poi la guardo Se avete voglia Non c'è l'herald Non c'è l'herald Ok Sono presi due plate Manco la terza sono presa Ma vado a farsi il Drake Secondo voi se ne sono accorti che Che ci manca il jungler Ma dai come è fatto a non killarla Peccato Che fatica ragazzi Ce la faccio a Cresto Game Prometto che ce la metto tutta amici Però Conteniamo le aspettative Fidate Meglio non farsi troppa illusione Non facciamoci troppa illusione amici Ok Però ricordatevi Che se sangennare con noi Non c'è nulla che non possiamo fare Cioè Volibert sta prendendo tutti i cazzo di obiettivi E ti appena sponano Kinzhafk Faccia lei Tutti li sta facendo Non ho provato Ginko la Draktar Non so cosa mi possa servire Un oggetto che mi dà ability haste Rispetto a un oggetto che mi dà Qualsiasi cosa in questo In questo globo Mamma che pietà ragazzi Però Eh stanno a far questo Che poi il problema non è quello Affke È un problema ma non è il problema C'è un problema che è tutto il mio team Se ce ne fosse uno bravo potrei carriarla ma Il problema è che non ce n'è uno bravo Attimo 0-4 Vabbè dai Bene Jack Altri lati positivi Oltre a quello Perché siamo ancora lontani dall'eclipsa Dai ma ha missato Il blitzkrank Che era fermo Vabbè non ho parole Però Contro di lui Contro di lui Per favore dai Per favore Sì però non è possibile Onstresha fa un game normale oggi Ma che è successo Che è successo oggi in particolare Non capisco Affelio sfiddato Top fiddato Mid no Ma tanto Non gli cambia nulla Legblank di prima ragazzi Ha farmato 50 minion In tipo 25 minuti E ha vinto E ha vinto per Mastery Questi lasciamo stare Questi lasciamo stare Passa sto cazzo di muro Passa sto cazzo di muro Madonna Il tasso è qualcosa che sbaglia Eh ma non ce la facciamo Eh ma non ce la facciamo perché tanto c'è il loro jungler Puffete Ok ok dai Senza Urgot è fattibile Con calma ragazzi Buono Ok Con calma L'ho detto che se mi fido è fattibile Però davvero Ho bisogno di un altro decente in squadra Chi può essere l'altro decente in squadra Vabbè Mamma mia ragazzi Un bot pure quello Ma come ha fatto Ok 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 calma Non ci arriva Oddio che culo C'è un po' di soldi Ma dove stanno i minion nemici In bot lane Ecco dove stanno È un peccato lasciare tutta quella Waverly Ok Ok 4000 gold Ci prendiamo l'Essence Reaver Tanta roba L'Essence Reaver È un bel infinity Ci prendiamo And let's go L'Essence Reaver È un peccato di mio L'Essence Reaver È un peccato di me È un peccato di me È un peccato di me No role No more Fat The show never ends Forza e coraggio amici Resistiamo tutti insieme Mentre la cavesta, mezz'ora di scudo Tutti insieme, tutti insieme Porca troia, che danno! Sì, non è vero Sì, non è vero Sì, non è vero It's paraochi time, ho sbagliato. Vabbè. Raga, ma cosa stanno facendo? No! Basta, è finita. È finita, ragazzi. Cosa stanno facendo? Non capisco cosa stiamo facendo. Ho 16 kill su 17, madonna. No, vabbè, ma un game del genere... Oh, a me ne sono capitati di game strani, ma come questo? Mai nella vita. Eh, mo fanno il Drake. Menormale che abbiamo preso l'altro. Boh. Non lo so, ragazzi, non lo so. Mi sa che mi serve questa. Per sopravvivere, altrimenti la vedo dura. Mi sforzo un è top. Vabbè, qualcuno ci doveva por morire, altrimenti... Non andava bene. Vabbè. Un game del genere mai... Cioè, me ne sono capitati tanti, ma come questo? Uh, come questo. Oh, Gesù. Lì? No? Eh, c'è Miss Force, non so via. Averli o non averli non fa la minima differenza. Ci serve anche Teemo. Facciamo massa, dai. Questo è un Dark Harvest. Barron non c'è. Lo possiamo fare perché non abbiamo un Junker. Il mio lavoro ha domande. Non ha rispondi. Per l'allenarsi, ragazzi, basta giocare qui. Non salva niente andare cerca. Possiamo vincere. Ok. Ah no, Miss Force, mi sta a morire. Bene. È una ulti così intimidatoria. Posso non essere per ma slugato, per favore? Ah no, ma che mi sta sparando questo? Madonna, quanto è difficile tutto ciò. Quanta difficoltà in sta partita. Vinci con lo scommesso, perché secondo te dipende da me. Sembra che non stia mettendo abbastanza impegno. 20 kill su 24, dai, hanno fatto 3 kill in tutto sto tempo. Meglio che niente. Questo prendo io, grazie. Grazie. Grazie, togliete questa, esatto. Praticamente l'ho ammazzato con 4 autoattacchi. Io non andrei via fossi in buo, eh. Lascio un po' di farmi in alleati, io avrei messo un full build. Minchia, il collector comunque mi ha dato un botto di soldi. Il collector dà veramente troppi soldi. Ok. Super mega buono. Ma per... Dai, ammazziamoli tutti! Ok. Sì. Tanti ulti. Vai, questi comunque mi seguono tutti, mi fa molto piacere. Mi piace che seguono le call. Sono scarsi, ma almeno non flammano e seguono le call. E questo è molto meritevole. Bravi ragazzi. Ora io prenderò questo. Ok. 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 Ok aspettiamo che ritimo con il suo heal Iniziamo a piazzare qualcuna di queste Ok Ora tutti insieme ragazzi Miss Fortune usa la ulti tutte le volte che ce l'ha comunque Ok via suo non so cosa abbia fatto mentre usavo la ulti ma è morto Ora mi sa che era la ulti di quel cesso Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Onore alla freccia Non so tutti e tre così bravi che non sapevo che onorare onestamente I miei alleati hanno fatto sette kill Beh Beh Potevo onorare Miss Fortune come Secondo top killer Del team Eh Va bene E secondo voi Perché abbiamo vinto sto game Perché i miei alleati Hanno seguito le mie call Gli dico di fare il Drake Facciamo il Drake Dico di andare tutti insieme Andiamo tutti insieme Facciamo il Nashor Tutti insieme E abbiamo vinto Avete visto? Grazie a tutti